Grazie, abbiamo mangiato la carne, formiche, larve, scarafaggi e così via però come sapete bisogna avere una dieta varia è anche un po' selvaggio come questo in Sudafrica un po' di verdura? ci vuole un po' di verdura quindi andremo a cercare un po' di verdura venite con me ok, guardate il cibo ecco il cibo, questo vedete è una camomilla la camomilla o margherita qua addirittura con un insetto non so, serve in telecamera quindi abbiamo insalata con carne adesso come vedete ci abbiamo un bel po' quindi basterà un po' per il mio compagno e un po' per me allora come mangiare questi fiori? bisogna strapparli con molta delicatezza per non romperli ok, adesso lo mangerò guardate buono, ma niente male quindi niente il video finisce qua spero che io ne prenderò ancora un altro perché è veramente buono ha un sapore veramente molto dolce e leggero quindi è veramente buono quindi anche come dessert? sì certo ma specialmente come condimento invece di mangiare solo la carne la carne in un posto come questo che bisogna avere molte proteine o magari c'è anche un po' di insalata abbiamo trovato sì, perché chi vuole insalata invece dei fiori mangia quello perché stiamo camminando veramente tanto da un paio di ore e quindi dobbiamo mangiare tanto per sentirci forti e camminare tanto e anche bere tu vuoi compagno mio? tieni ok, ok io pure ne prendo buono buono, eh? io pure ne mangio guarda guarda io pure ne mangio buono quindi buono e niente noi vi salutiamo spero che questi video sulla sopravvivenza vi stanno piacendo che ne prenderete anche spunto quando vi troverete in una situazione di emergenza se vi perdete in un bosco quindi niente il video come sempre finisce qua noi andremo avanti nel nostro viaggio perché come vi ricordiamo stiamo cercando il villaggio, la civiltà nel prossimo video vi faremo vedere come bere e dissetare sì, anche come dissetarvi come trovare qualcosa da bere quindi niente, il video finisce qua e al prossimo video